Il tuo amante ti ama? Bene, la risposta è molto semplice, no, non ti ama, perché se ti amasse non sarebbe il tuo amante, sarebbe il tuo compagno, sarebbe il tuo marito, sarebbe il tuo fidanzato, sarebbe uno che avrebbe lasciato la moglie e starebbe con te. Se invece non lo fa e quindi ti gestisce una situazione da amante è perché di fatto non ti ama, che poi tradisca la moglie, questo è un altro discorso, che non c'entra assolutamente nulla per gli uomini tra l'altro, forse anche per le donne, magari un percentuale un po' minore. Sesso e amore sono completamente disgiunti, l'amore è affetto, vicinanza, connessione, con la moglie ha amore, con te fa sesso trasgressivo per svuotarsi le palline da tennis, per provare un po' di adrenalina, ma non ti ama. Fatene una ragione e se non ti va, lascialo, oppure vai anche con altri, non devi essere fedele a un amante e non devi pretendere che lui sia fedele a te perché oltre con la moglie andrà anche con altre donne. È normale che accada, metti un like con l'abbonamento base, seguimi i seminari, ciao a tutti.